la tendina della cucina per proteggere le coltivazioni di mais usano anti crittogamici sempre più velenosi e le mie api non producono più miele e muoiono disperata mi sono messa a pregare per le mie api ma niente allora ho sciolto la tendina della cucina e mi sono impiccata e commento un'ape è un sensore dell'anima gruppo chiamata alveare quindi un'ape non ha un'anima mentre l'individuo quando si incarna come uomo inizia ad avere un'anima singola ma l'individuo che si uccide per le sue api dimostra di avere un'anima tanto limitata da amare le api al posto degli uomini grazie 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 grazie